Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Oggi vi parlo di ciclismo, si è appena conclusa la Coppa Agostoni. Quattro ragioni per me per vedere questa gara, una rara corsa del calendario internazionale lasciata all'Italia, una corsa importante con anche un pedigree, un parco partente, una start list piuttosto interessante. Le quattro ragioni erano una di carattere nostalgico, romantico, mi ricordo la Coppa Agostoni, la mia gioventù, quando si correva in agosto, era una premondiale, quindi serviva al CT Alfredo Martini per andare a selezionare la formazione che avrebbe partecipato ai mondiali che di solito si correvano tra fine agosto e primi di settembre. Mi ricordo che mi guardavo telecamere fisse all'arrivo della gara e il giorno dopo andare a comprare il giornale per leggere il borsino di chi aveva più chance di entrare, chi sarebbe stato a riservo, chi sarebbe stato a sorpresa, magari escluso dalla nazionale. Ora i mondiali sono già stati disputati domenica, è una corsa che fa parte comunque del Trentico Lombardo ed è ancora una gran bella corsa perché tra il Colle Brianza e l'Isolo il percorso è assolutamente competitivo. Seconda ragione per vedere questa gara era il fatto che per una volta non avevamo nessuno dei pescecani del ciclismo moderno, i cannibali che vincono tutte le gare. Stavolta avevamo una gara nella quale avevamo la sorpresa di sapere chi avrebbe potuto vincere, quindi molto interessante. Terza ragione, vedere il 8 ottobre ci sarà l'ultima corsa di un grandissimo campione del ciclismo italiano che si è tolto e ha fatto togliere ai tifosi tante soddisfazioni, ovvero Vincenzo Nibali e ero curioso di vedere lo stato di avanzamento della sua forma prima di questa gara così importante e capire se si può sognare anche una sua vittoria l'8 ottobre a Lombardia. Quarta ragione, vedere i progressi di Andrea Piccolo, un corridore che seguo da quando ero giovane perché conosciuto da una mia amica che me ne ha sempre parlato molto bene avendo un nipote che correva nelle biciclette, nel ciclismo e ero curioso di vederlo finalmente ora che ha risolto tanti problemi che l'hanno tenuto un po' in difficoltà nei primi anni del professionista quindi ero curioso di vedere anche lui che cosa avrebbe fatto. Ne è valsa la pena? Assolutamente sì, è stata una gran bella gara, molto divertente, molto animata già dai 50 km dal traguardo animata soprattutto da Pozzovivo e Formula che hanno fatto un bel numero in salita hanno creato un gruppetto e l'ha vinta però un corridore olandese, Seward Bucks di 26 anni un corridore da Alpesin, una delle migliori squadre pro team però è anche una gara nella quale quella che poteva essere la quinta ragione per vedere la corsa di oggi ovvero Alejandro Varverde, altro grande e vecchio che sta per ritirarsi, l'ha completamente buttata via perché era infatti nel gruppo dei nove che hanno concluso in testa, che erano in fuga e che hanno concluso in testa la gara, c'erano due corridori della Movistar, Mas e Valverde Valverde però come un ragazzino qualsiasi è partito a 350 metri dall'arrivo non ha avuto le gambe, pur avendo preso un bel margine iniziale non ha avuto assolutamente le gambe per riuscire a completare lo sprint che ha vinto appunto Bucks, questo passistone olandese con grande merito che aveva corso bene anche fino a quel momento e ha vinto la volata con grandissimo merito incredibile davvero questo suicidio di Valverde che ha buttato via una grande occasione i miei due protagonisti annunciati che avevo voglia di vedere, Nibali e Piccolo tutte e due sono stati effettivamente protagonisti Piccolo addirittura è arrivato terzo quindi sul podio anche lui era con un compagno di squadra, con Uran hanno corso entrambi molto bene, Uran mi ha veramente impressionato per una gamba di notevole qualità credevo avrebbe potuto scappare anche lui a un certo momento ma non ci è riuscito e alla fine un doppio piazzamento appunto per la EF Piccolo ha corso bene, l'ho visto veramente in grande forma, l'ho visto veramente in un grande spolvero credo che sia un corridore sul quale si può insistere che potrà dare soddisfazione negli anni futuri Nibali anche lui ha corso in una maniera piuttosto interessante era nel gruppo alla fine, è arrivato ottavo, un piazzamento quindi insomma ottavo sul gruppo di nove non ha fatto neanche la volata però non ha corso male, ho visto una buona gamba, l'ho visto lì senza faticare con i migliori non so se naturalmente questo potrà essere sufficiente per il Lombardia però quantomeno è un corridore ancora che la sua la può dire per l'Italia 5 corridori nei primi 10, come detto grandi protagonisti soprattutto Formula e Pozzo Vivo Formula un po' fregato diciamo anche dalla strategia perché la UE aveva dietro Ulissi e Irci però si sono persi in un inseguimento, sono stati sorpresi Formula quindi era nel gruppone di testa, non tirava, non aveva probabilmente le condizioni per poter vincere in volata però il quarto posto, un buon risultato, mi ha molto impressionato in salita, l'ho visto anche lui con una buonissima gamba e mi ha fatto piacere vederlo in questa forma, così come Pozzo Vivo, un numero meraviglioso che ha tentato nel finale quando l'MLM stava cercando anche il colpaccio alla fine però un buon quinto posto per lui, una buona gamba credo che potrà essere protagonista a Lombardia decimo il Dani a completare questo buon risultato per i corridori italiani che si sono fatti trovare pronti in questa manifestazione come detto molto divertente, bello il percorso e quindi ne è valsa assolutamente la pena vedere questa gara è bella la vittoria di Bax, ora attenzione perché abbiamo ancora due corse italiane abbiamo la Bernocchi e poi avremo le Trevalli in attesa poi di avere il Piemonte e il Giro di Lombardia che l'8 di ottobre dovrebbe chiudere la stagione poi in realtà c'è anche il Veneto successivamente comunque, bella gara, divertente se l'avete seguita mi interesserebbe sapere il vostro commento peccato perché credo che l'Italia avrebbe potuto portare a casa questa gara sia con Formula 1 sia magari con una gestione migliore la F e la Movistar che avevano due corridori ciascuno nel gruppo credo che si possano un po' mangiare le gambe specialmente vedendo anche Valverde per come ha fatto lui la volata e vedendo anche Piccolo che magari qualche colpo tra lui e Uran avrebbero potuto giocarlo grazie ragazzi, aspetto i vostri commenti iscrivetevi al canale con Inciclissimo all'appuntamento e alla prossima ciao, un bacio da Lox e alla prossima ciao